Valliona. È morto il 74enne caduto mentre raccoglieva le olive da un albero di sua proprietà in via Pianezze, a Grancona. La gravità delle ferite aveva reso necessario l'intervento dell'elicottero del Suem, che aveva trasportato l'anziano all'ospedale di Vicenza, dove era ricoverato in condizioni critiche in rianimazione. Purtroppo, dopo l'incidente di sabato mattina, non si era più ripreso.